quest'anno vogliamo essere ancora più green perché l'attenzione all'ambiente all'energia e rinnovabile sono una priorità e la bici è proprio il mezzo perfetto per abbinare l'attività sportiva con uno stile di vita sano quindi io direi di iniziare a pedalare ora in bici con Filippa solo su Bike Channel grazie